Eee what's up a tutti ciurma e benvenuti da giocherina in questo nuovissimo episodio su Child of Light Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno 20 like per questo nuovo video Ed eccoci qua di ritorno ragazzi dopo secoli e secoli che vi dico che avrei ricominciato con i gameplay Però questo periodo è stato diciamo abbastanza incasinato perché ragazzi come vi avevo spiegato comunque sui social Questi giorni Rodrigo e io ce li abbiamo avuti di vacanza dal lavoro Per cui ovviamente essendoci lui a casa ne abbiamo approfittato per fare diverse cose che avevamo in sospeso E per fare diversi giri quindi già questo mi ha preso del tempo E oltretutto ragazzi tipo verso sabato mi sono anche ammalata Mi è venuto il raffreddore direi che si sente ancora anche se per fortuna sta passando E tra l'altro un bel virus ha pensato di farmi iniziare alla grande il nuovo anno ragazzi Perché la notte fra il 31 e il primo gennaio sono stata veramente malissimo Quindi proprio come iniziare alla grande questo 2019 Ieri appunto ragazzi stavo veramente tipo una pezza per cui non me la sentivo per niente di mettermi a fare video Però oggi mi sento abbastanza meglio per cui mi sono detta direi che è arrivato il momento di ritornare a caricare il gameplay giocherina Forza e coraggio Allora per quanto riguarda Child of Light ragazzi avevamo incontrato un nuovo ostacolo Sarebbe a dire quel boss quella specie di idrattere testa una roba del genere Che non riuscivo a battere Uno di questi giorni ragazzi appunto ho avuto la magnifica idea comunque di mettermi a livellare Quindi ho fatto salire di livello i nostri tre personaggi Ho scoperto con mia grande sorpresa che per fortuna i personaggi hanno una specie di condividi esperienza Nel senso che se dovessi stare lì a combattere con Aurora e Flynn soltanto Quindi non dovessi stare a combattere con Rubella Quest'ultima però comunque prenderà punti esperienza Quindi questa cosa ci è piaciuta tantissimo Li ho fatti salire di livello adesso non mi ricordo precisamente di quanto Però ovviamente ho usato anche punti abilità ragazzi per comprare nuove abilità E nel frattempo mi è venuta in mente una nuova strategia per provare appunto a sconfiggere questo boss Sarebbe a dire utilizzare anche forse specialmente Rubella ragazzi assieme a Flynn Perché ci ricordiamo che Rubella appunto è molto più veloce di Aurora Quindi magari questo potrebbe permetterci di attaccare più spesso E magari anche di interrompere gli attacchi del nemico Perché no Per cui ragazzi eccoci qua È esattamente qui che incontreremo il boss Direi di prepararci Incrociamo le dita Speriamo che quest'oggi la cosa possa andare meglio Per cui adesso sostituirò Aurora con Rubella Questo è poco ma sicuro Ok Rubella entra pure in campo Eccola qua Per cui io ho tolto tutte le pietre ragazzi Quelle degli elementi Proprio per evitare poi casini Vediamo che il nemico che sta per attaccare è questo qua Per cui direi di usare questo E dopodiché di concentrarci solo ed unicamente su una testa ragazzi Fino ad eliminarla Per cui utilizzerò poi Monsone su questo Ovviamente non è servito a interromperlo Meraviglioso Però ragazzi Però Rubella Può utilizzare anche la cura Questo non ce lo scordiamo Ok Proviamo così Vediamo un po' che succede Ecco mi ha interrotto Rubella infatti Niente da fare Mi ha interrotto anche l'attacco di Flynn Purtroppo ragazzi Ok vediamo No non riuscirò comunque a interromperlo C'è poco da fare Proviamo così E che mi aspettavo Ok per fortuna Cioè siamo riusciti a interromperlo Però temo che comunque ci interromperà Attacco di Flynn Non lo fanno apposta ragazzi a colpire lui ovviamente Noi non siamo riusciti a interrompere quest'altro Attenzione ci ha paralizzato Flynn Questa la vedo davvero molto dura ragazzi eh Usiamo cura su Flynn E Monsone su questa testa qui Anche se Suppongo che non ci servirà Puglia tantissimo Infatti ce l'ha interrotto ragazzi Poco da fare E' veramente ragazzi è veramente il primo vero boss che trovo molto problematico direi Continuando ad attaccarci ovviamente non l'ha interrotto ovviamente Ok direi di usare cura su Flynn La testa di fuoco sembrerebbe essere abbastanza indebolita Speriamo di essere per lo meno sulla buona strada Ok Una testa è andata Diciamo che Siamo abbastanza sulla buona strada La povera rubella sta per Abbandonarci Direi di approfittare un attimo di Lucciolino E di usare una pozione su di noi ragazzi Perché se no Almeno adesso è già Una testa in meno insomma Di più preoccuparsi Perchè vediamo se questo è utile Sulla testa verde Spero di sì Ok sì Perfetto Allora Non credo che riuscirò a interromperlo Speriamo Ci sono riuscita ragazzi Per fortuna La testa verde comunque sembrerebbe essere abbastanza indebolita Fuoco Non credo che riuscirò No Ok Ci ha interrotto l'attacco di rubella Vediamo se a questo basterà Wow E vai raga Avanti così Siamo sulla buona strada direi Proprio sulla buona strada Su questo Il punto ragazzi Che non abbiamo più punti magia Adesso che ci faccio caso Ci serve Una pozione magica raga Perfetto Non so se ci basterà Per farla fuori Mi auguro ovviamente di sì È abbastanza Ah sembra già indebolita raga Perfetto Utilizziamo folgore Che dovrebbe essere l'attacco giusto E vai Grande raga Ce l'abbiamo fatta Comunque ovviamente Cioè averli alzati di livello ragazzi sicuramente è servito Perché una volta scorsa In così poco tempo comunque non è che le teste già andavano giù Per cui Aurora Flynn E rubella ovviamente salgono tutti di livello Meraviglioso Raggiungi le acque Presto Or non saranno più uccelli Liberi dall'incanto e capilli Grand abbiamo risolto il problema di Flynn allora Che curioso bacino Mostra le brame del cuore di ognuno Vedermi farà il sole e la luna Guarda magari avremo fortuna Vi prego è sabato santo orsù vostra grazia La gente si attende un discorso orsù vostra grazia Aurora mia aurora il mio cuore spezzato Vostra grazia chiamate un dottore Vostra grazia Oh caspita Padre Sta male raga era a letto Hai visto per caso il sole e la luna Rifai questa strana magia per favore Funziona una volta soltanto Sto male che colpo terribile al cuore Caspita raga Adesso sappiamo inoltre che il nostro padre sta male Ci abbiamo proprio voglia di restare qui Ok ragazzi Finalmente sono tutti liberi dal terribile incantesimo Che bello Fin Nonno che gioia vederti È tutto sgagnato è bellissimo Che dici codardo son pronto a sgridarti Oh principessa Aurora vi prego madame Grazie al nome di tutti Oh piccola aurora Temevamo di non veder più Le dolci verdi colline di Lemoria Potessi essere lieta Ma il mio cuore è angosciato Mio padre Io temo che sia ormai spacciato Il flouto della dama Vediamo che cosa farà Vediamo Chissà Magari serva a qualcuno Aurora Il tuo canto mi ha proprio rapito Che melodia dolce ho appena sentito Nulla è cambiato Neanche una brezza si è alzata Eppure non so Sono un po' rinfrancata Ok la richiesta delle Muriani è stata esaudita Perfetto Abbiamo guadagnato anche un trofeo Ehi tu sventurata Ma sventurata a chi? Piacere di vedervi signore Piacere proprio no Sul mio onore Per miracolo ancora son vivo Giunto a casa Presso il melo fiorito nel bosco C'era quel sentore Nella C'era quel sentore nell'aria Sono andato in giardino Ma mi hanno attaccato creature dell'orrore Mi son fatto pure male al pollicione Ma fa Sì è malissimo fa Povero uomo Non avete una casa Magari un parente competente Sai usare la tua spada affilata Se non sei come mio nipote codarda Verrai di certo ricompensata Ah Perfetto Panico pastorale Elimina presso l'albero fiorito ogni creatura oscura Dal giardino d'avono alla foresta di Matildis Tra la versura Ok nella foresta Perfetto Non ci resta che tornare ragazzi Alla foresta insomma Però scusa un attimo Dov'è l'albero fiorito? Non è che qua spiega precisamente dove sia St'albero fiorito Cioè dobbiamo avere forse un attimo di fortuna A trovarlo Ah Quel vecchio del villaggio E qui la sua casetta Preparati Sconfiggiamo gli invasori In tutta fretta E questo ragno Orripilante Ah Ti sono ancora più brutti Di quelli piccoli Che schifo Ah Si sono aumentati pure la velocità Pezzi Che merda Questo ci mancava Guarda Merda Non ci siamo proprio Non ci siamo proprio Fuoco su questo Porca vacca Ecco Me l'ha interrotto Ma vaffa Eh Minchia che odio Lo che faltava ragazzi E lo che mancava Che fossero così veloci Ah E me l'ha pure rallentata Oh Ma ci andate un attimo pianino Cioè ragazzi Via Oh Allora Paralizzata Niente la fa Madonna Ci stiamo ritrovando ragazzi Sempre in situazioni Difficili eh Ecco Davvero difficili E me l'ha pure interrotto E vaffa Madre mia Non so come faremo Cavolo Ragazzi La vedo dura La vedo dura Dobbiamo prendere qualcosa Per curarci Ok Almeno uno è andato Il problema è che questi Continuano ad essere Così veloci I maledeti Ah no Adesso no Non sono più rapidi Come prima Attenzione eh Ok Questo pure è andato Però il poveretto Sta tipo per morire Vediamo un po' Che cosa succede Però almeno l'ho interrotto Non era vulnerabile al fulmine Ma almeno l'ho interrotto Ui Come l'ha schivato Rubella Alzata di gambe Vai Difesa Ah ok Andiamo così Intanto Credo che ormai Perfetto Manchi poco Perfetto Allora Il carissimo Finn È Finn Aumentato di livello Abbiamo anche trovato Un oggetto Il punto è che Dovremmo Ecco eliminare pure questo Ma volevo prima Prendere degli altri Punti vita Dai fa niente Ci accontenteremo di questi Direi Cara Rubella Direi di provare a cambiarti Per Aurora Anche se non so Quanto effettivamente Possa essere Utile Andiamo Di Fuoco Sul ragno Ma non credo che sia Vulnerabile al fuoco Comunque Interrotto Porca vacca Oh ci fosse una volta Che non mi interrompono Ah beh Fu vulnerabile al fuoco Perfetto Non me lo ricordavo eh Mi sono andata un attimino Intuito Che culo raga Allora Andiamo così Boom È andato già giù Alla grande Ecco Non l'ho fatto in tempo Vabbè Almeno ha colpito Aurora E non ci ha interrotto L'attacco di Finn Via così Muori anche te Va col paese Ok raga Anche Aurora Aumentata di livello Perfetto Perfetto Abbiamo Attenta Di orrori Di orrori Ce n'è ancora Vincerò questa battaglia Allora Ah C'è un altro Di quei ragni Schifosi Giusto lì Sì sì Lo so Lo so L'ucciolino Lo so Direi di utilizzare Un attimo Questi punti abilità Allora Con aurora Direi che comprerò Aumento Dei punti magia Di uno Questo dai Difesa Andiamo così Dopodiché Con il carissimo Finn Compreremo questo Un colpo in testa Ben assestato E l'aumento Della velocità Mentre con Rubella Aumento Della difesa Magica Di 5 Perfetto Avanti così Diamogli addosso Ok Madre mia Allora Saranno vulnerabili A fuoco Anche questi Vediamo Lo scopriamo subito No Come non detto Proviamo Raggio di luce Vediamo un po' Che succede Niente Vabbè Almeno l'ho interrotto Ecco Aumentato di velocità Porca vacca Miseria Oddio Come si muove così Fa ancora più Schifo Posso dirlo Che fa ancora più schifo Ancora più ripugnante Dio santissimo Vai di polgore Finn Ok Colpisci Colpisci pure Non ti servirà Niente Non ti salverai Ok Boom In testa Dritto in testa Minchia come va veloce Sto pezzo Ne merda Via così Ok E' andato raga Prendiamo quello E questi sono vulnerabili Al fuoco Ragazzi E andiamo avanti Così Ok Così Sì Sì Aia Intanto con Aurora Gli diamo addosso A ragno Per quanto possibile Oddio Aiaiaiaiai Minchia dritto in testa Povero Finn Avanti così Ecco Questa è una cosa Che odio Raga Il fatto che aumenti Così Rapidamente La loro velocità È veramente Insopportabile Direi Ok Dagli 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 A ragno Ok Che ce lo siamo tolto Dai piedi Fuoco indomabile Forza coraggio Ok Mi manca poco Bam Minchia resistente Lo strozzetto Agli attacchi Da mischia Ok Forse una percorsa Dovrebbe bastare Bam Eccolo là Che crolla Ragazzi Ok Uah Oggi andiamo Proprio come Dei treni Spelliti Rubella è aumentata Di livello Però ce l'abbiamo fatta Ragazzi Caro nonnino È un bene Essere fuori Da quel villaggio Malandato Solo grazie a me Non viene saccheggiato Signore Il giardino È bonificato Era ora Dopo tanta attesa La mia bella Versura È tutto rovinato Così sul premio Non potrai Vantare pretesa Ah pure Che colpa mia S'è rovinato Ci stavano i mostri Fino un attimo fa Scusa L'aurora Ti tratta così male Quello Fin Non temere Acqua passata Ma Conosci una magia Per mutare un capillino Un uccello Perché Per ritramutarlo In un uccello Ok Panico pastorale risolto Tormalina Levigata Solo questo Cioè abbiamo preso Solo questo Dopo Il culo Che ci siamo fatti Per risolvere Questa situazione Schifosissima Vabbè Dai Diciamo che va bene Così Punto di Rubala Direi che compreremo Questa Autovivifica Il punto è adesso Dove Caspita Devo andare Effettivamente L'unico problema Che abbiamo ancora In risolto ragazzi È quello di Rubala Il punto È che Non so Dove Andare Per raggiungere Il circo In ogni caso Mi dirigerò Di nuovo Verso il villaggio Dei capilli Per vedere Se da qui Posso andare Da qualche altra parte Scusate Sapete Il più alto Dell'alto Dov'è Mai sentito Non so nemmeno Cos'è Ma il tempio Della luna Sulle rupi Di erin È Perfetto Il tempio Della luna Ha detto Che è sulle rupi Di erin Ok È lì Quindi è a sud Di qua Allora Quindi se andassimo Di qua Quindi Per dove Stiamo puntando È da un po' Di tempo Che me lo domando Un attimo Eh Abbiamo scordato Qualcosa Nient'altro Che me Ho 13 anni Compiuti Da un mese Il che mi fa Un uomo Veramente Una simile barba Già a 13 anni Noi capelli Invecchiamo Invecchiamo Precocemente Il nonno È stizzito Perché ho fatto Danni Mostrare coraggio Questo io devo Vi seguo Va bene Farei da scudiero Prego Però non russare Ben detto Tu i muri la notte Fai tremare Ok Fantastico ragazzi Quindi a quanto pare Finn Ci seguirà Nel nostro viaggio Il che Mi Diletta Abbastanza Visto che Essendo lui Comunque Conoscitore Della magia Può essere Molto Utile Apriamo Questo Scrigno Smeraldo Grezzo Mentre qua sotto C'è qualcosa E questo Oh mio dio Allora Aspettate ragazzi Perché qua c'è vento Che come potete vedere Ci sposta C'è una certa Corrente Aia Diverse Correnti Madre mia Allora Aspettate Non so se qua sotto Potremmo andare Effettivamente Vediamo No ok E' semplicemente Un buco Da dove esce Del vento Però qua sotto Sì che possiamo andare Aspettate Allora Apriamo questo qua Pozione magica Perfetto Dopodiché Io mi avventurerei Qua sotto Ok Luciolino Tocca a te Qua Aprire questo Ok Un tonico Curativo Poi riusciamo Ah di qua Perfetto Qua sotto Si può andare Ancora più Giù raga Attenzione Ok Infatti E questo che Ma sta dormendo Tipo Ok Possiamo entrare In questa porta Attenzione Vivifica Questo lo lascerei Un attimo lì Visto che è lì Che tipo Appisolato Oh mio dio E qua Dove siamo qua Madre mia Ragazzi Qua Allora Qua la porta E sbarrata E a quanto pare Non possiamo aprirla Perlomeno Non da qui Non merda Allora Questo si che potrebbe Essere un problema Anche perché qua Non ci può aiutare Aglia Lucciolino La concia De tua madre Allora E che io non so Ragazzi Continuo a dire Non so Dove andare Effettivamente Quindi Tutti i posti Mi sembrano appropriati Capite Capite Che vi voglio dire Merda 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 Miseria Ma è un incubo Madre mia Curiamoci un attimino Perché Ci vedo abbastanza Nella cosiddetta cacca Che Attenzione Attenzione Ok È merda Però Oh Oh Che cavolo Oh Magari è una tortura Ok Andiamo di sopra Ok Meno abbiamo ripreso Per un po' di vita Apriamo qui Robino grezzo Poiiamoci un attimo Di nuovo Raga Perché se no Qua la vedo Dura È difficile Allora Uh Allora Qua Aaaaa Ma dove sta a portare la corrente Oh Madre mia Allora Ecco Vai su Vai su Minchia Minchia Aggrappati Ok Possiamo portarlo giù Ma porca miseria Ma può essere tanto complicata un'azione Ah dai Oh Ok Oh Portiamolo giù E vediamo che succede Perfetto Qua correnti non ce ne sono più Ecco come l'ho detto Però ci servirà sicuramente appunto A tappare Questa corrente Suppongo No Ah ecco No A tappare un cavolo Merda Come l'ho detto Quel coso mi sa che ci serve A Tenere premuto questo pulsante Raga Spero di fare in tempo Passare Ok Per un pelo raga Fermi tutti Dai Ok Oh Ce l'abbiamo fatta Quasi aperto Agna Agna Ok Wow Ok Allora Questo lo possiamo aprire Smeraldo grezzo Questo lo possiamo aprire Antidoto Questo lo possiamo prendere Meraviglioso Polvere della magia Polvere della magia Rubino grezzo Direi che Polvere della magia Lo useremo Ovviamente Su fin Ragazzi Perfetto Ah era per la difesa magica Non per i PM Va a cagare Va vabbè Fa niente Ah Qua possiamo aprire la porta La porta che era chiusa un attimo fa La porta che era chiusa un attimo fa Sì ma perché farmi fare tutto sto giro Della miseria Non lo so Forse solo per trovare Quell'oggetto lì Boh È tutto un gran mistero È tutto un gran mistero Direi di tornare su Aspettate un attimo Allora sì Torniamo fuori Vediamo cosa abbiamo di qua Allora che dice qua A sinistra la pianura di Rambert A destra il villaggio dei capilli Ok Continuo a rimanere Stupita Dalla grandezza dei vari posti Perché Io ogni volta veramente Non so Dove andare Cosa fare Merda Ok di qua Mi sa che non si passa ragazzi Sono troppe correnti Perfetto Allora devo andare per forza di qua Suppongo Aspettiamo che la corrente passi Oh merda Aspettate Uh Questo stavo per perdermelo Attenzione È della difesa Vero Ah della difesa magica Vabbè direi di darlo a Aurora Che è quella che c'è la più bassa Perfetto Non ci resta poi che andare su di qua Ecco fatto Il vento è più forte Continua a soffiare Padre aiutami Io voglio tornare Poverina raga Che bei sentimenti Sapere mi va Aurora Aurora ma dimmi Un padre che fa Un padre rimbonca le coltri del letto Ti stringi se tremi O per puro diletto Un padre sa sempre Quel che c'è da fare Con lui non potrai mai Mai disperare Può un padre fare tutto ciò E a che serve un padre Se no Che bello Prendiamo questa roba Qua sopra c'è qualcosa Uh Uh Sì 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 Ah porca miseria Vabbè ci torno Perché c'è un altro Dei potenziamenti ragazzi Che è proprio qua Dacca Un altro Della difesa magica Perfetto Direi di usarlo di nuovo Su Aurora Così si mette un attimo In pari con gli altri Perché se no Perché Aurora È purtroppo La più debole Del nostro gruppo Ragazzi Allora Vediamo un po' Cosa c'è qua Alla pianura Ok Ho premuto Direttamente quadrato Senza manco leggere Vabbè è fantastico Aurora vagò Per campi oscuri Fino a una piana polverosa Cercando qua e là Il sole E la luna In quella natura Tenebrosa Era quasi certa Di non riuscire più A dare seguito Al suo nobile intento D'un tratto Ai suoi occhi Si rivelò No Non il sole Ma un altro portento Ok Siamo appena entrati Nel capitolo 5 Ragazzi Oh Nicola Più in basso del basso Non oso andare giù Aurora Guarda lassù Perché più in alto dell'alto Puoi andare solo tu Ok Allora Qua c'era questo Che pensavate Mi fosse spuggito Pozione magica A sinistra Ai mulini a vento Oddio raga A destra Che sta succedendo Cos'è quella roba Di fianco alla strada Il circo Si sono fermati qui Trovato il tendone Canterò a squarciagola Aglieterò a tutti quelli Che sono Là Sono certa Che tu voglia dire Lì Ok Quindi qua c'è ragazzi Simbolo del fatto Che il circo È appunto Passato Di qua Vediamo un attimo Qua sopra abbiamo qualcosa Sembrerebbe di no E invece Andando più qua Qua sotto c'è qualcosa Tocca a te Lucciolino Perfetto Potente tonico curativo Che sempre ci piace Tensione Uh Merda Oh merda Miseriaccia Non sapevo che ci fosse Quel nemico Là sotto Allora Questo coso Sembra fatto tipo di legno Paglia O roba del genere Quindi magari Sarà vulnerabile A fuoco Almeno mi auguro Ok Si sono aumentati La velocità Come se non fossero Già abbastanza veloci I maledetti Ok Te servite a niente Perché è già andato Vediamo un po' Però non è vulnerabile Al fuoco ragazzi Peccato Ce l'ho sperato Aiaiaiaiaiai Mi auguro che sto coso Ci dia un bel po' Di Di punti esperienza Proviamo col monsone A sto punto Le provo tutte Tu sparisci Ah niente Non è morto Ancora del tutto Vediamo un po' Uh No Non è vulnerabile Manco l'acqua Speravo Visto che si è così Zozzo Pensavo tu lo fossi Vabbè Uh Merda Ok Eh Niente raga Non è vulnerabile A niente Sto stronzo Niente L'ha schivato Non ho guardato Ragazzi Perché stavo Prendendo punti vita A rompere il genere Non è vulnerabile A niente Sto pezzo Nè merda Però vabbè Sassata Dagli E povero Finn Tu mori Ok Non so se basterà Una percossa Di Finn Ok Che culo Per fortuna Ci è bastato Non è che ci ha dato Quei così tanti punti Esperienza Finchia Pensavo di più Porca miseria Qua c'è qualcosa Però Ecco Immaginavo Qua sotto Sì c'è qualcosa Uno scrigno Perfetto Minchia Questi smeraldi Grezi Continuo C'è smeraldi Ste pietre Sì probabilmente Saranno utili In certi momenti Però per il resto Mamma mia Ne stiamo raccogliendo Così tanti ragazzi Che non so Che farmene Effettivamente Vabbè Allora Direi di procedere Oh merda No 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 Ho tattacchia Sta cippa Col cavolo Che te vengo addosso Prendiamo questo Raga Perché ci serve Direi di sì Ecco fatto Ok Prendiamo pure Ste altre due pallette Qua non c'è niente Ok Non ci resta che andare di qua Ok Qua dentro possiamo entrare Ma qua sopra Cosa c'è? C'è qualcosa Qua sopra? Secondo me sì Vediamo Ok C'è un piccolo scrigno Per il piccolo lucciolino Potente tonico curativo E qua dentro Che possiamo entrare Oddio Stavo per Rimetterci bene Proprio le chiappette Ragazzi Allora Tiriamo questa Ok Ci ha aperto la Porta Perfetto Ecco fatto Potevamo andare più giù Di là E sta tipa? Oh E tu chi sei? Gli occhi mi ingannano Iniculus Ma è La mia cara sorella Nora Qui c'è Com'è la mia cara sorella? Com'è possibile? Tu vi sta lì fredda Pallida in volto Dentro il tuo letto Sono rimasta scioccata ragazzi Perché Non parlavano di una sorella All'inizio della storia Questo è un miracolo Per mamma e il suo duca Sarà grande di letto Ma quanto è passato? Papà come sta? Non tanto bene Mi spiace dirlo Da quando si trova nel letto Il dolore pare sfinirlo Per rincorarlo Io cantavo Coi bemerli nel giardino Il lilla profumava l'aria Poi Orrori Fui portata nella torre Scalino per scalino E dentro uno specchio Fatto entrare Uno specchio Sai dove lo possiamo trovare? Torniamo da mamma e papà Nient'altro più felice Mi farà Bisogna scalare Un'altra montagna Si parla davanti Un ostacolo grande Noi come famiglia Supereremo Qualunque barriera Sì Ce la faremo Wow Oh Grande Pure lei si è unita Alla nostra compagnia Fantastico raga Cioè C'è sto Veramente sto gioco Sta riservando diversi Come si dice Colpi di scena Nel senso che Appunto Non Era stata accennata La presenza Della sorella Di una sorella Qualsiasi Di Aurora Scusate Sono entrata qui Perché pensavo Si potesse andare Anche più giù Però mi sbagliavo Quindi non si accennava Alla presenza All'esistenza Semmai Di una sorella Se volete leggervi La rivelazione Numero 7 Qua ce l'avete E quindi Cioè Boh E' stata fatta Entrare Dentro uno specchio Ragazzi E' stata fatta Salire su una torre E' stata fatta Entrare dentro Uno specchio Io non so Perché Ma Ho proprio La vaga Sensazione Che c'entri Qualcosa Ragazzi La nuova sposa Del re Perché Cioè Guarda caso Aurora Muore La sorella Viene fatta Entrare dentro Uno specchio Ce la ritroviamo Qua Nello stesso mondo In cui siamo noi Cioè Tutto Fin troppo Strano Direi E puzza Grandemente Di Pupu Ok Allora Direi ragazzi Che possiamo Fermarci qui Per oggi La cosa si sta Facendo interessante Sicuramente Si andranno Scoprendo Tanti aspetti Che non ci aspettiamo In questo gioco Questo video Termina qui Grazie a tutti Un bacione E un badocio A tutti ragazzi Ciao Mi ricordo ragazzi Che se volete Questi aggiornamenti Sul canale Potete trovare Tutti i link Nei miei social In descrizione E anche il link Per farmi delle donazioni Ciao